Se cercate crediti andate su FIFA Coins Buy, un sito economico veloce e sicuro, trovate in descrizione il link più il codice del 6% di sconto. Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo video, una nuova serie, o meglio una vecchia serie che ritorna, cioè quella dei Potential Transfer, questa volta parliamo dei trasferimenti possibili estivi. Cominciamo molto presto rispetto all'anno scorso perché voglio che questa serie duri dall'inizio, anche da prima del calciomercato, come adesso, da giugno fino a settembre, l'inizio di settembre quando si concluderà il calciomercato. Spero che vi seguirete questa serie, che vi piacerà, quindi partiamo subito con i tre giocatori di oggi. Sono tutti e tre legati in qualche modo alla serie A, due di questi sono praticamente due trasferimenti sicuri. Quindi partiamo subito da Chedira, giocatore del Real Madrid, che si trasferirà quasi sicuramente, tipo al 90%, si trasferirà alla Juventus e questo è un ottimo, ottimo rinforzo. Un giocatore che quest'anno ha giocato veramente poco per via di molti infortuni, però io penso che se la Juve dovesse prendere, quindi ripeto è quasi sicuro, se la Juve dovesse prendere questo giocatore farebbe un buon affare, un ottimo affare, per il semplice motivo che è uno dei migliori nel suo ruolo, è abbastanza giovane, ancora giovane abbastanza, è molto forte, ha una buona qualità e quindi potrebbe sicuramente far bene. È uno dei giocatori stile Juve, del tipo forte in difesa, con una buona qualità a centrocampo, che fanno consistenza, eccetera, eccetera. Questo bisognerà poi capire se andrà a sostituire qualcuno in particolare, per esempio, che ne so, magari un Vidal o magari un Pogba, però vabbè, questo non lo so io. Potrebbero essere due giocatori che potrebbero lasciare la Juve, ma in realtà sono tipo 20 anni che si parla di un possibile trasferimento di quei due, e quindi, chissà, vedremo più avanti in questo calciomercato. Sta di fatto che Khedira arriverebbe gratis a parametro zero, perché lui in scadenza di contratto corre al Madrid, e quindi la Juve non dovrebbe praticamente spendere un euro per aggiudicarsi questo ottimo giocatore. Andiamo con il secondo giocatore di oggi, stiamo parlando di un altro giocatore molto legato alla Serie A, in realtà lui già gioca in Serie A, cioè Paolo Di Bala, che, come sappiamo, sta per chiudere praticamente con la Juventus. Altro giocatore che andrà alla Juventus al 99%, lui non è in scadenza di contratto, bensì sarà pagato un bel po' di soldi, ma non so quanti, sinceramente. Già comunque Di Bala era stato pagato abbastanza dal Palermo, e quindi comunque devono farci qualche soldino. Di Bala quest'anno ha disputato una stagione veramente eccellente, tanti gol, tanti assist per la, diciamo, prima stagione in Serie A, in realtà aveva giocato già in Serie A, ma era molto, molto più giovane di adesso. Bisognerà vedere se sarà all'altezza, le sue prestazioni saranno all'altezza nella Juventus, perché, come sappiamo, le dimensioni Juventus e Palermo sono abbastanza diverse. Comunque sia la sua qualità non si mette in dubbio, le sue statistiche di quest'anno non si mettono in dubbio, nero su bianco, questo è un ottimo giocatore. Quello che anche qui bisogna capire è se andrà a sostituire un giocatore in particolare. Sappiamo che Llorente è in uscita, o meglio, dovrebbe essere in uscita, però Di Bala non mi sembra proprio lo stile di giocatore che andrebbe a sostituire Llorente. Bisognerà vedere sicuramente se rimane Tevez, e cosa succederà poi se ne andrà via Tevez. Io penso che rimarrà ancora un anno, perché comunque il suo contratto penso sia ancora di un anno, poi magari andrà a chiudere la carriera in Argentina. Però, vabbè, non lo so. Comunque Di Bala è senza dubbio un acquisto molto molto importante per la Juventus del futuro. Andiamo con il terzo e ultimo giocatore di oggi. Come possiamo vedere, stiamo parlando di Yaya Toure, perché praticamente è da mesi che si parla di questo tormentone, Yaya Toure che potrebbe andare all'Inter di Mancini. In realtà le possibilità, le probabilità sono veramente molto basse, perché Yaya Toure è probabilmente il miglior giocatore nel suo ruolo, o comunque uno dei tre migliori centrocampisti che ci sono in giro per l'Europa, per il mondo sicuramente. E quindi sarà difficile, è un pilastro del Manchester City. Il Manchester City ha già più volte detto che non si priverà di questo giocatore, perché comunque è stato il primo top player ad acquistare negli ultimi anni, e quindi, vabbè, è difficile comunque dare un giocatore del genere. È vero che ha 32 anni, però la sua qualità, la sua quantità, non si mette in dubbio. Ricordiamoci che l'anno scorso, se non sbaglio, era il miglior marcatore del Manchester City, e ha aiutato molto il Manchester City l'anno scorso di Yaya Toure, e quindi quest'anno sì, ha fatto meno gol, però comunque sì, il giocatore non si mette in dubbio. Addirittura c'è chi era un po' scettico, un po' dubbioso su un suo possibile approdo all'Inter, definendolo un po' vecchiotto, un giocatore da cui non ripartire, beh, io penso che nel centrocampo dell'Inter un giocatore così farebbe la differenza tutta la vita. Comunque, vabbè, questo è un altro discorso. Bisognerà poi vedere se effettivamente l'Inter è disposto a spendere un sacco di soldi per Toure, perché se andrà via dal Manchester City andrà via per un sacco di soldi, ha uno stipendio poi molto alto, quindi anche quello bisogna soddisfare. Poi bisognerà vedere se rinuncerà alla Champions League per andare in una squadra, come l'Inter che non fa le coppe europee quest'anno, e bisognerà poi vedere Mancini, visto che i due hanno un rapporto eccezionale, se sarà, diciamo, la chiave per questa trattativa, però finora è veramente molto difficile. Comunque, il video, ragazzi, si conclude qui, spero vi sia piaciuto, come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace, a 400 mi piace uscirà un nuovo episodio, e spero che questa serie vi piaccia. Comunque, fatemi sapere nei commenti se siete contenti che questa serie sia tornata, e soprattutto scrivetemi altre cose da trattare nei video successivi, altri giocatori da trattare, trasferimenti, notizie calde, eccetera, eccetera, che piano piano si fanno tutte. Iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link come sempre li trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga! Grazie a tutti!